Era l'estate scorsa quando Davide Boni, Presidente del Consiglio regionale Lombardo, lamentava dimissioni a metà da parte di penati, finito nella rete dell'inchiesta di Tangenti su indicazione di alcuni suoi presunti finanziatori che lo avevano un po' liato in passato e che evidentemente in cambio non avevano avuto ciò che si aspettavano, dunque mondo di ricatti, mondo di Tangenti, avevano quindi confessato ai magistrati questi Tangenti e che poi hanno indotto penati le dimissioni e finito sotto inchiesta. Era Davide Boni questo, Lega Nord, che ha sempre usato la sua spocchiosità, la sua finta bontà per definirsi sempre pulito, lontano da Tangenti e oggi finisce indagato in un'indagine, in un'inchiesta che è già avanti, altro che vedere le carte come lamenta Salvini da Londra, è andato a vedere l'Arsenal, è scappato da Londra Salvini, non ne vuol sapere, non sa che faccia usare per tornare qui, le carte le conoscono, tant'è che Davide Boni, indagato per Tangenti e per corruzione, in un'inchiesta partita da Cassano Dadda che vede coinvolto anche l'ex consigliere provinciale Paoletti della Lega Nord, dimesso dal partito Reo Confesso, Davide Boni nelle scorse settimane aveva chiesto informazioni alla Procura di Milano per sapere se anche lui era indagato in quell'inchiesta lì, era così tranquillo e così lontano dalle Tangenti e al di sopra di ogni sospetto, che lui stesso, fiutando l'aria, l'arresto del sindaco di Cassano Dadda, Edoardo Sala del PDL per Tangenti, per oliare, per sveltire le procedure, per recuperare due aree dismesse del paese, progetti per oltre 100 milioni di Euro, l'indagine a carico del consigliere, allora consigliere, anzi assessore in comune, il leghista Paoletti e dunque anche consiglieri in provincia di Milano, l'indagine a carico di altri assessori, le testimonianze, abbiamo portato i soldi a altri funzionari della regione, anche della Lega, dunque dichiarazioni di questa portata agli atti con gli omissis hanno indotto Boni a precarsi in Procura nelle scorse settimane per capire se qualcosa lo riguardava, ecco perché dunque una richiesta legittima che Boni ha fatto qualche settimana fa, la Procura doveva rispondergli e quindi è uscita anche la notizia che appunto Boni ha indagato, per cui un'inchiesta condotta non proprio nel massimo della tranquillità da parte di Alfredo Robledo, che non è uno sproveduto qualunque, ma è un magistrato comunque di lungo corso che l'inchiesta ne ha condotte e ne sta portando avanti, dunque un'inchiesta fondata che si fonda su testimonianze, su giri di soldi, ovviamente nel migliore dei modi, ma anche il più arcaico, cioè la consegna dei contanti, dei cash, manu manu, negli uffici della regione Lombardia, cioè un posto insospettabile, un posto dove è difficile che ti tirino il tranello, cioè non è come quando fu Pennisi ingenuo uscire da Palazzo Marino e andare in via Epli davanti alla libreria a riscuotere i 5 mila Euro per la pratica di un cittadino che voleva sistemare il tetto di casa e l'ha beccato in strada, no, negli uffici della regione Lombardia, dice il giudice, sono avvenuti questi scambi di soldi e il modo migliore è meno rischioso per farsi beccare, perché ti possono beccare eventualmente solo se chi ti paga spiffera, come infatti è stato, Uliola ha spifferato, ha dichiarato, ha confessato di essere stato il tramite tra il mondo imprenditoriale goloso di appalti e la politica oliata per sveltire le pratiche, da un lato i imprenditori e dall'altro i politici, dunque da un lato i paoletti, i sala e dall'altro i boni sui piani alti che vengono indagati, certo ci sono ancora delle sfumature, però insomma Boni chiedeva le dimissioni totali di penati, fa dimissioni solo a metà, è indagato come è indagato e lui non ha ancora avuto il coraggio di farlo, anche se secondo me in giornata lo farà, io sto registrando di prima mattina e quindi non escludo che mentre sto registrando se si è già dimesso, perché non credo che possa durare molto in quella condizione, quantomeno il pudore di dimettersi per un'indagine così vergognosa, per corruzione e tangenti. Andiamo a vedere i giornali, ovviamente l'argomento è su tutte le prime pagine, Repubblica, la Lombardia, le tangenti della Lega, mazzette per un milione di Euro, indagato Boni, Presidente del Pirellone, poi un'analisi di Roberto Roi, il governatore impresentabile, riferito a Formigoni e poi il gran ritorno del Cavaliere Claudio Tito che dice, secondo noi il Cavaliere sta cambiando il nome al partito perché in questo vuoto politico in cui la Lega si è sputtanata, in cui il Pidieri non c'è nessuno oltre a me, io ho i mezzi finanziari per rifarmi il leafing, per cambiare il nome al partito e per ributtarmi in politica, quantomeno ci provo tanto, gli italiani medi sono tutti di seconda media, capisco una mazza, ancora chissà quanti mi voteranno a me furbo, ha ragione, Berlusconi ha tutto il diritto di pensare così perché se è durato 20 anni è grazie a qualcuno che gliel'ha permesso, mica solo a lui. Comunque a questo punto con la vicenda di Boni vale la pena fare un breve riepilogo della situazione in Lombardia, dei politici nominati partendo tra rinviati a giudizio e indagati. Partiamo da Daniele Belotti, assessore regionale al territorio, cioè dunque ricopre la carica che Boni ricoprì nella scorsa legislatura nel Formigoni 3, dunque è ovviamente Belotti indagato per vari reati tra cui rissa e danneggiamento a Bergamo, secondo la procura il politico indagato per concorso in associazione a delinquere è l'anello di congiunzione tra istituzioni e curva, parliamo di curva dallo stadio, sarebbe l'ideologo degli ultra, il consigliere dei leader della curva, anche la sua abitazione viene perquisita, dunque Belotti si ritiene sia stato addirittura il tramite, cioè colui che avvertiva i capi ultra di scappare perché erano sotto la mira della polizia mentre c'erano i disordini in Bergamo, questo è uno dei dubbi, poi c'è Nicol Minetti, consigliere ed ex igienista dentale, imputata con Emilio Fede e Lele Mora per Rubi, con lei che ha preso Rubi dalla questura consegnandola a una prostituta brasiliana, Rubi era lì in questura denunciata per furto senza documenti e senza soldi, minorenne in attesa che la polizia ricevesse i documenti di genitori di Rubi che stavano cercando di rintracciarli per dirgli vostra figlia è qui, la Rubi che quindi viene portata via dalla questura con la compiacenza di alcuni poliziotti della questura di Milano che dunque disobbedivano all'ordine della PM Fiorillo, PM dei minori che avvertita dalla presenza di questa ragazza disse tenetela lì essendo sabato, lunedì la affideremo a una comunità protetta, invece nel frattempo chiama Berlusconi, dice mando lì Nicol Minetti la mia rappresentante presidenziale, consegnatela lei un'angelica donna, la porterà una prostituta brasiliana e così fecero dunque, fatto gravissimo, Minetti sotto processo però continua a fare il consigliere regionale, siede a fianco di Formigoni, poi c'è Filippo Penati, partito democratico, finito nell'inchiesta di corruzione, concussione e finanziamento illecito i partiti nell'inchiesta sul sistema Sesto un presunto giro di tangenti milionarie per la riqualificazione delle varie aree Falc ed Ercole Marelli, anche qui Filippo Penati parallelamente è finito nei guai esattamente come sta finendo nei guai boni, cioè grazie alla testimonianza di qualcuno che evidentemente è ricattato, non ha avuto i favori di ricambio che si aspettava, oppure passato del tempo si è rotto le balle di finanziarli per niente e quindi ha parlato ai magistrati, quindi Penati da un lato con l'ex candidato sindaco a Sesto, i vari di Caterina e tutto quanto che l'ha messo nei guai, Penati e adesso invece Boni lo sta mettendo nei guai, Uliola e Paoletti con le loro dichiarazioni e i soldi che avrebbero portato la regione Lombardia nelle sue mani. Massimo Ponzoni, un milione e mezzo di Euro per i suoi affari al partito, PDL, anche lui assessore, imputato di corruzione, arrestato perché c'era pericolo di fuga, messo in galera, corruzione, concussione, finanziamento illecito, banca rotta fraudolente delle società pelicano e immobiliari Mais e per il GIP avrebbe ottenuto quasi un milione e mezzo di Euro in contanti da imprenditori locali, più terreni e beni per quasi due milioni per le sue immobiliari, circa 345 mila Euro per le campagne elettorali e nell'ordinanza anche i suoi rapporti con i clan dell'Andrangheta. Gianluca Rinaldin, PDL, candidato ed eletto in regione nel 2010 a Como, quando già la magistratura stava indagando su di lui, poco dopo Gianluca Rinaldin venne indagato per corruzione e truffa aggravata finanziamento illecito dei partiti e falso per presunte mazzette legate alla ristrutturazione del lido di Menaggio sul lago di Como. Nel corso dell'inchiesta Rinaldin finì anche ai domiciliari, per la procura il politico ha intascato una tangente da 30 mila Euro e un finanziamento illecito da 100 mila. Quei 30 mila va detto che quanto pare li aveva spartiti con un altro ex assessore provinciale a Como del PDL, tal Giorgio Bin, soprannominato Bin Ladder, con la R, perché in dialetto vuol dire ladro, però insomma, indagato in questa cosa, Rinaldin è rimasto in regione. Lombardia, Monica Rizzi, un'attività di dossieraggio per colpire i nemici all'interno del suo stesso partito, cioè la Lega Nord, e favorire l'elezione in Consiglio regionale di Renzo Bossi nel 2010. Per questo la Rizzi, assessore ai giovani allo sport in regione Lombardia, è indagata dalla procura di Brescia per trattamento illecito di dati personali. La finanza si presentò nei suoi uffici al Pirellone lo scorso luglio. Secondo l'accusa, la Rizzi si sarebbe servita di un investigatore infedele per avere accesso a informazioni riservate. Franco Nicoli Cristiani è fresca la vicenda, anche lui dell'ufficio di presidenza di Formigoni, in carcere a Brescia nel novembre scorso, ci è rimasto per tre mesi, con lui vicepresidente del Consiglio regionale finiscono in manette altre nove persone, tra cui un funzionario dell'ARPA, tal Rotondaro, l'accusa per il politico e traffico illecito di rifiuti avrebbe permesso lo smaltimento di rifiuti tossici nel cantiere della Brebemi. Nicoli Cristiani deve rispondere anche di corruzione, nella sua casa i carabinieri trovano 100 mila Euro in contanti, ritenuti dall'accusa una tangente, addirittura si ritiene sia parte di una tangente, come spiegato qualche giorno fa, sempre qui, perché pare che la matrice dei soldi trovati nella casa del politico Nicoli Cristiani non corrispondessero invece alle matrici dell'altra tangente e quindi si presuppone che fossero 200.000 come minimo. Pisolli, ed eccoci qua con Davide Boni, tirato in causa da un architetto e da un ex compagno di partito, cioè l'architetto Ugliola, che ricordiamo fu arrestato l'anno scorso, quindi poi messo in carcere e grazie alle sue emissioni che hanno favorito un'accelerazione di questa inchiesta è stato scarcerato Ugliola in settembre e dunque Paoletti, che è l'ex consigliere provinciale a Milano della Lega Nord, nonché ex assessore nella vecchia giunta di Cassano D'Adda della giunta di Edoardo Sala, che è questo signore, arrestato, l'ex sindaco di Cassano, dunque grazie alle testimonianze di questi signori si è arrivati a questa indagine che riguarda Davide Boni e il suo capo segreteria che si chiama Dario Ghezzi, questo per quanto riguarda Boni. I giornali abbiamo visto che aprono in prima pagina con Repubblica, Lombardia, le tangenti della Lega, poi anche Il Fatto apre con Padagna Ladrona e due editoriali, uno di Peter Gomez, uno scandalo nazionale che sintetizza velocemente le inchieste che toccano da vicino e da lontano, Roberto Formigoni, poi l'ultimo Spenga la luce con Travaglio che descrive i raffronti della tangentopoli di vent'anni fa con quella di oggi della serie, una volta quantomeno si sapeva chi prendeva i soldi e c'era una parte minoritaria dei partiti che non li prendevano, oggi davvero non si sa più chi non li prende questi soldi perché guardando la regione Lombardia, dal PDL al PD c'è qualcuno che comunque è indagato o è stato arrestato e è finito in galera per tangenti, dunque c'è un po' di spaesamento da questo punto di vista, quindi rischiano davvero gli onesti, è un guaio per chi non vuole pagare tangenti e vederci chiaro in politica a chi rivolgersi in questi tempi, però è curiosa la prima pagina della Padania di oggi, ve la mostro perché è davvero curiosa, oggi mercoledì 7 marzo sulla Padania non c'è traccia dell'indagine a carico di Davide Boni, aprono con vogliamo le pensioni con non i mafiosi al nord, Bossi ribadisce leggi di iniziativa popolare per tornare alle pensioni in anzianità e niente, poi ci sono altri argomenti, l'inno di Mammeli, Dozzo la lega al testo alternativo sulle semplificazioni, carburanti alle stelle, Roma capitale nel Cipe e poi Napoli raffica di arresti e poi questa fintarella, Cotta, governatore del Piemonte, alleanza con i sindaci. Non c'è traccia sulla Padania di oggi dell'indagine a carico di Davide Boni per questo giornaletto finanziato con i fondi dell'editoria pubblica che ha peraltro grossi problemi di bilancio con i suoi giornalisti e la sua redazione che rischiano di chiudere davvero molto presto e a questo punto forse per il bene dell'umanità sarebbe meglio, avremo forse dei mantenuti in meno che fanno disinformazione. C'è un pezzo di Luigi Ferrarella che spiega bene questo processo di oggi a pagina 3 sul Corriere e che in sostanza dice anche che ci saranno poche scappatoie da parte di Boni o da parte di questa inchiesta, c'è per questa inchiesta che ormai ha dei punti assodati, in quanto ci sono alcuni dettagli che vanno prelevati dai verbali e ve lo leggo velocemente. Tra i verbali segretati e interrogatori Zeppe di Omissis l'unica cosa che al momento si capisce è che sarà un processo di parole a dire se abbiano ragione il procuratore aggiunto Robledo e Filippini a ritenere come scrivono nel decreto di perquisizione già pieno il pieno coinvolgimento degli indagati Davide Boni e Dario Ghezzi nella gestione degli affari illeciti e nella spartizione delle tangenti che Michele Uliola e Gilberto Leucci hanno concordato con gli imprenditori tra cui Francesco Monastero e Luigi Zunino su alcune aree di Milano e di comuni limitrofi affinché gli amministratori locali destinatari di parte degli illeciti profitti favorissero con atti contrari ai doveri d'ufficio gli interessi immobiliari e commerciali dagli imprenditori. Parliamo di Zunino che è già finito condannato nell'inchiesta della scalata della BNL, Zunino è una sorta di digresti di origini liguri ma di fatto è già un pregiudicato da questo punto di vista per gli affari che ha fatto. Del resto che cosa al momento regga l'idea di accordi corruttivi la cui esecuzione si ritiene tuttora in essere stante l'attualità della realizzazione dei progetti immobiliari nonché la prosecuzione dei contratti tra alcuni degli indagati e che cosa fondi la convinzione secondo cui Boni e il suo capo di segreteria Ghezzi addirittura abbiano utilizzato gli uffici pubblici della regione Lombardia come luogo di incontro per concludere gli accordi corruttivi e per la consegna dei soldi richiesti agli imprenditori si parla di 300 mila Euro in contanti, lo si intuisce già dal tipo di indizi che la Procura ieri ha indicato come motivo delle prequisizioni affidate alla Guardia di Finanza milanese. Tre interrogatori sono il caposaldo di questa inchiesta dell'anno scorso, dell'architetto Ugliola arrestato come detto e poi scarcerato, arrestato nell'ambito delle licenze urbanistiche a Cassano Dadda, incrociati con quelli del cognato Leucci dell'ex sindaco ed ex assessore di Cassano, già visti Edoardo Sala e Marco Paoletti, e indirettamente riscontrati per l'IPM da tre intercettazioni di Paoletti e due dell'imprenditore Veneto Monastero, dunque non solo le testimonianze ma anche le intercettazioni incrociate che confermano il quadro accusatorio che adesso riguarda dunque Davide Boni. Proprio qui sta una particolarità che si riesce a scorgere già dalla prequisizione di ieri, scrive Ferrarella. Infatti accanto alle deposizioni di Ugliola, Leucci Paoletti Sala, rilevanza è attribuita ad alcune intercettazioni curiose, forse quasi quanto il contenuto ancora non noto per la loro durata. Una dell'allora leghista consigliere provinciale Paoletti del 1 ottobre 2010 all'indomani del suo interrogatorio del 30 settembre e due il 21 ottobre stesso, giorno dell'altro suo interrogatorio. Tutta l'inchiesta sconta peraltro una zavorra di fondo, scrive Ferrarella, e cioè il fatto di essersi dovuta svolgere forzatamente sotto gli occhi dei potenziali indagati. Già l'estate scorsa, infatti il tamtam della politica regionale accreditava che Ugliola, arrestato nella primavera del 2011, esatto, per una tangente urbanistica di 500 mila Euro al comune di Cassano D'Adda insieme all'ex sindaco Sala, stesse orientandosi a focalizzare con le proprie dichiarazioni coperte allora come oggi da segretazione il ruolo di Boni e Ghezzi, erano gli omissis, poi i rumors in regione, cioè le chiacchiere che circolavano in seguito a questi arresti, si erano via via fatti più forti al punto che poche settimane fa Boni aveva presentato in procura a Milano, come la legge consente a chiunque, una formale richiesta per sapere se fosse iscritto nel registro degli indagati. Siccome i termini per la risposta scadevano in procura in queste ore, si spiega la definitiva immersione dell'indagine di ieri. Ecco il punto che vi dicevo all'inizio. Dunque Boni sapeva dal dubbio di essere indagato. Perché? Se non ha preso niente? Altro elemento di complicazione è la controversia figura del protagonista di questa vicenda e cioè del mediatore dei tangenti Michele Uliola. L'architetto era stato già indagato nel 1996, qui dice un precedente che riguarda Uliola per tangenti pagate all'allora assessore all'urbanistica del comune di Bresso vicino a Milano. Il politico Giovanni Terzi fu però in parte prescritto, in parte assolto in appello. E qui c'è la storia che riguarda quel periodo lì e dunque si chiude il pezzo dicendo dai pochi atti. Tuttavia si comprende anche che la procura di Milano, seppure ritenga molto attendibile Uliola, anche nella parte in cui si descrive come un terminale della Lega per i rapporti con un certo giro di imprenditori nel settore dei centri commerciali e dell'urbanistica, non si basa solo sulle sue dichiarazioni, scrive Ferrarella, ma valorizza, oltre al riscontro di alcuni incontri a pranzi tra i vari protagonisti, ricordiamo il ristorante Riccione che si trova vicino a Via Le Marche a Milano, si mangia molto bene, sono stato anch'io, ed non è molto distante dal Berti, cioè l'altro ristorante di Via Galvani dove invece andava Niccoli Cristiani, evidentemente a prendere le bustarelle di Rotondaro, cioè il funzionario dell'ARPA che gli portava le bustarelle, prese dai vari locatelli che volevano a loro volta le loro pratiche velocizzate, quindi il Berti per Niccoli Cristiani, il Riccione invece per Davide Boni. Tra i pranzi e vari protagonisti anche le parole di un leghista o più precisamente di un ex leghista, appunto Paoletti, espulso di recente a causa del suo coinvolgimento in questa inchiesta e qui dice che appunto si tratta di Paoletti, Marco, il quale avrebbe dato conferme alle parole di Uliola sia sui singoli episodi specifici come i 20.000 Euro che ha ammesso di aver ricevuto dall'architetto nella spartizione a più tasche di una tangente edilizia Cassano, sia sul contesto generale del ruolo di Uliola, il quale a nome dei suoi referenti politici, leghisti o millantandoli, secondo le due possibili interpretazioni, avrebbe finito con lo stringere a parole accordi con i vari imprenditori per oltre un milione di futuribili tangenti. Dunque se non fosse stato arrestato Sala e se l'inchiesta fosse continuata e dunque se a Boni non fosse arrivato la puccia dell'orecchio, probabilmente il quadro accusatorio si sarebbe ancora più aggravato, forse le prove a carico di Robledo come sostiene sarebbero state ancora di più, fatto sta che insomma le cose stanno così, adesso le bocce paiono ferme e vedremo un po' cosa succederà nei prossimi giorni, vedremo un po' che finirà la Lega Nord, che lamentava Roma ladrona e che invece dopo vari casi in Tanzania, dopo la tangente già resa grazie al famoso Pirla Patelli che mise nei guai Bossi negli anni 90, che si pensava fosse oggetto di complotti, invece modestamente andava appunto a Ravenna in macchina a battere cassa ai Ferruzzi per riscuotere tangenti che poi appunto ha reso, dunque il popolo leghista magari si è dimenticato di queste parentesi, di queste fantomatici teoremi dei PM, oggi vediamo un po' se questo teorema, cioè il teorema della scienza è un qualcosa di certo, non è una favola, vedremo se questi teoremi a cosa porteranno e cosa produrranno nei prossimi giorni e soprattutto a questo punto il countdown riguarda lui, Formigoni. Mi piacerebbe scommettere ancora quante ore reggerà Formigoni senza indagini a suo carico, sia per quel che riguarda le sue pedine attorno che sono state erose, è rimasto solo lui in piedi, sia per quello che concerne invece l'affare del San Raffaele, riferito anche a quelle indiscrezioni che sono uscite sul Corriere nei giorni scorsi, sui suoi rapporti con Don Verze, quando ancora prima che facesse la fine di Sindona, qualche mese fa o qualche anno fa, insomma gli diceva il governatore e con tutti i favori che ti ho fatto, a voi sembra normale che un governatore dica a un prete che gestisce un ospedale con tutti i favori che ti ho fatto? Non si ravvisa già qui un'ipotesi di reato? Una possibile indagine, un abuso d'ufficio, una corruzione? Possibile che ne esca indenne Formigoni da una frase così grave che rivolge a un prete di un ospedale? Che motivo ha di dire una cosa così? Dovrebbe dirla a tutti, no? Gli ospedali di Lombardia sono centinaia, invece non lo dice solo Don Verze, per me le ho raccontate Formigoni, vi saluto!